Il 42% degli europei per Natale farà la maggior parte dei propri acquisti online. Il 33% utilizzerà più canali di acquisto, unendo mobile online e acquisti in store. E' quanto emerge da una ricerca Dynatrace. La prevenzione dei consumatori a confrontare prezzi e caratteristiche dei prodotti attraverso il web è inoltre molto alta. In Europa dichiara di farlo oltre la metà degli acquirenti, il 58%, che tramite smartphone o tablet compare prezzi, scarica coupon e legge recensioni, anche mentre sta effettuando gli acquisti in un normale negozio.